Civil Week 2024 al Parco Trotter in compagnia di Io, Amin, della mia parte. Cosa avete organizzato per questa Civil Week e cosa organizzate come associazione in generale? Intanto grazie per l'opportunità. Allora, per questa Civil Week abbiamo organizzato delle domande sulla Costituzione. Le domande saranno quali diritti credi di avere già e quali di questi tuoi diritti sono nella Costituzione. Poi dopo col QR Code possono vedere se ci sono già questi diritti oppure se sono diritti nuovi che sono magari indirettamente indicati nella Costituzione. Visto che la Costituzione magari non menziona espressamente diritti come il diritto all'area pulita, cambiamento climatico, però sono comunque, secondo noi, i diritti che ci sono all'interno della Costituzione, nello spirito dei padri costituenti. E tu sapevi di avere così tanti diritti o magari pensavi di averne di più? Ma io direi che sì. Per me la Costituzione italiana, sono innamorata della Costituzione italiana perché è scritta benissimo e anche dove non ci sono diritti non espressi credo che ci siano nello spirito. E l'unica cosa, per esempio, che menzionerei è che si usa la parola, per esempio, cittadini. A me piacerebbe che si usasse la parola persone perché ci sono anche persone che abitano, per esempio, l'Italia, ma sono residenti e non sono ancora cittadini oppure sono domiciliati, però lavorano, contribuiscono con le tasse, però non sono quindi espressamente chiamate nella Costituzione, anche se nello spirito sicuramente c'era l'idea di tutelare tutti. Grazie mille, che belle parole! Grazie! Buona Civil Week! Grazie anche a voi!